Giorno a Ligure per il Presidente del Consiglio Enrico Letta, che ha visitato a Genova i laboratori dell'IT, l'Istituto Italiano di Tecnologia e il Porto. Genova resta uno dei grandi asset del Paese nell'industria e nell'innovazione, ha sottolineato Letta confermando l'impegno del Governo sull'IT, dove la sinergia pubblico-privato mostra di funzionare a livelli di eccellenza. Ad accogliere il Premier, il Presidente del Comitato Esecutivo della Fondazione IT, Gabriele Galateri, e il Direttore Scientifico Roberto Cingolani, oltre al Sindaco di Genova Marco Doria e alla Giunta Regionale Ligure. Presenti, oltre al Presidente Claudio Burlando, gli Assessori Giovanni Barbagallo, Giovanni Boitano, Gabriele Cascino, Renzo Guccinelli, Claudio Montaldo, Raffaella Paita, Lorena Rambaudi ed Enrico Vesco. Proprio il Presidente Burlando ha ricordato quanto Genova possa dare alla ricerca scientifica italiana. Letta, omaggiando la fresca nomina del Ligure Renzo Piano, senatore a vita, ha rinnovato l'impegno del Governo nel ridare nuovamente energia alla ricerca. Allora, noi immaginiamo che, essendo ormai, come dire, a tappo questo edificio più grande, ci siano spazi di crescita qui da noi, naturalmente poi negli altri punti di eccellenza di questo Paese. E in particolare immaginiamo, abbiamo detto l'11 luglio, un'iniziativa in cui è presente, anche anzi dedicata a firmeccanica, che si possono immaginare due importanti poi di sviluppo di questa attività qui a Genova, naturalmente poi, come dicevo, libera questa attività di crescita in tanti altri punti del Paese. Individuando due segmenti specifici, uno, tutto ciò che riguarda il rapporto con la medicina, diciamo così, con la biotecnologia, con la biochimica, la bioingegneria e così via, mettendo queste funzioni, laddove sono già presenti attività commerciale, dove è presto andare anche Simes o Adorzelli, dove noi contiamo di avere una presenza significativa anche di IT, di Università con Ingegneria e del CNRS, completeremo il gine avviato qualche mese fa. E poi l'altro segmento molto importante che può crescere è quello legato alle macchine intelligenti, a rapporto con i meccanici e con i paesi che operano da noi. Sappiamo che come sistema paese siamo indietro e sappiamo che tanti giovani se ne sono andati. Sappiamo tutti che abbiamo una missione e che non tutto è perduto, anzi.